I sindacati dei distributori di benzina confermano lo sciopero proclamato per il 18 giugno e lo stop del self-service dal 14 al 17 del mese. La decisione è arrivata dopo la fumata nera avuta dall'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico tra i rappresentanti dei distributori di benzina e il Governo. Il solo impegno mostrato dal Governo sul tema non è bastato ai sindacati che hanno confermato l'agitazione della categoria. Nel dettaglio le tre associazioni, Faeb, Fenica e Fijic annunciano lo sciopero. Hanno lamentato che politica e istituzioni si limitano ad occuparsi di benzina solo per aumentarne sistematicamente le accise, quando invece il mercato della distribuzione carburanti continua a essere bloccato dall'assenza di trasparenza che consente anche la sempre più frequente e conclamata violazione delle leggi che pure con tutti i limiti ci sono e sono vigenti. Per il Vice Ministro dello Sviluppo Claudio De Vincenti la concorrenza nel settore carburanti va ampliata, garantendo la correttezza della concorrenza stessa in modo da portare una riduzione dei prezzi. Per De Vincenti l'obiettivo è una riforma complessiva del settore su cui ha spiegato, credo, sia ora di metterci le mani. Non vogliamo procedere alla riforma, dice ancora De Vincenti. Sta poi ai sindacati decidere in autonomia cosa fare rispetto allo sciopero del 18. Il Vice Ministro ha fatto sapere che già dalla prossima settimana cominceranno i primi incontri sia con i sindacati che con l'UP, la rappresentanza delle compagnie petrolifere. Incontri prima unilaterali e poi di confronto tra tutte le parti.